Quarta corsa dall'arcoveggio, una condizionata sul miglio, sono in otto al via. Uno cruciale min, due godiva doc, tre king knas, quattro bianca del sile, cinque carisma, sei black fire horse, seconda linea sette cornelli a OP, otto black rock glory. Pronostico che vede godiva doc, favorita numero due, Manuele Matteini, alternativa principale king knas, numero tre, Alessandro Gociadoro. Corsa che sembra match fra questi due, vedremo le fasi iniziali. In partenza, velocissima carisma, cerca di sopravvanzare godiva doc, mette mezzo cavallo davanti, anzi qualcosa di più. Prova a sfilare prima dell'arrivo della curva, godiva doc però rientra e così rimane all'esterno carisma che poi non riesce ad accodarsi per l'inserimento di cruciale min. Più indietro c'è Cornelia OP, partito invece a mezza botta king knas, che ora scatta in terza ruota, sopra avanza carisma e va quindi a fare match con godiva doc. 29,6, 400 iniziali, con i due più attesi, subito alle prese, più indietro in terza posizione segue il cruciale min, che concede tre, quattro lunghezze ai primi due, che completano i 600 iniziali in 44 e 1. Poi si accoda, king knas, godiva leader, king knas in seconda posizione, cruciale min in terza, all'esterno è rimasta carisma, poi terza ruota per Bianca del Sile che progredisce dopo 800 metri di gara e va ai fianchi di godiva doc. Godiva e Bianca del Sile in pariglia, seguiti da king knas, altezza del chilometro, superato in 1,14 secco, dalle retrovie cerca di farsi luce anche Blackrock Glory, ma è ancora lontano dei primi. 500 alla conclusione con godiva doc, che si mantiene in vantaggio, king knas rimane lì, all'esterno c'è Bianca del Sile, 400 al palo, con il parziale ora in 14,8, avanza ancora Blackrock Glory. che tenta la terza ruota sulla curva finale, il vantaggio è sempre godiva doc, king knas sposta all'esterno al completamento delle piegate, ingresso in retta d'arrivo, godiva doc ha una lunghezza abbondante da gestire, si prova però king knas e nel finale trova in crisi godiva doc e passa agevolmente per vincere nettamente. terzo posto per Blackrock Glory, 28,9 a chiudere che vale meno per king knas che ha messo in campo soprattutto 200 metri finali davvero di grande qualità per piegare godiva doc e passare agevolmente già ai 50 conclusivi. rivediamo la plasticazione di king knas che così fa poker, quattro a seguire, king knas e alessandro gocciadoro che invece raddoppia in giornata, in salchi e al training alessandro gocciadoro, per conto della scuderia glass bagar.